Musica Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Tipo di video che non ho mai fatto un prank a mio padre Ragazzi in questo momento mio padre è uscito e dato che tiene tanto la sua tv Io direi di fargli lo scherzo, uno scherzo abbastanza figo dai, abbastanza carino Che è quella di rompergli la tv Ma come la spaccheremo? Vi faccio vedere subito Ragazzi ho trovato, direi di aver trovato, intanto sono qua con i miei complici, i miei fratelli Che io dirò che è colpa loro Però cercherò di, cioè mio padre non deve picchiarli Che è quello a posto della mia Ragazzi ma che cazzo no Ecco, è questa l'immagine comunque E questa, adesso non ci resta che, porco due Non ci resta che, state buoni cazzo Non ci resta che settarla e metterla E collegarla a HDMI Sto cacando sotto Cazzo ridi E cerco di nascondere anche la videocamera Cioè al massimo la metto qua Probabilmente vedrà la videocamera ma Farò tipo così Perché ho tipo una cana allegria Con lo schermetto no E la socchiudo al massimo La copro con qualcosa Cazzo sono sostenissimo Accendetela tv Regà Viene così Devo coprire quel computer lì Che sta là e non ha caso Non lo metto mai lì Come cazzo lo copro Allora Prendo sto coso E lo metto qui Dato che lui ha pregato prima Quindi potrebbe cascarci Ok E Non so io Punto su una cosa Punto sul fatto che Se entra Vede la tv tutto nervoso Punto su quello Dove cazzo è il telecomando Vediamo se Spengo Mamma mia regà Il cuore no Io non le devo fare queste cose Ok Con due siamo morti No Siamo morti Io do la colpa a voi Cazzo me ne frega Oh mio No Sai che siamo morti Io direi Non so se mi sta inquadrando Io direi Di staccare la registrazione Di riprenderla Quando mio papà Sarà qua sotto Perché se no Veramente Magari ci metto un'ora Ma papà Viene al nostro funerale No Ce l'avrà ancora Per la tv Capisci Non verrà Il nostro funerale Ma scherzi Regà Regà Ho appena chiamato mio padre Ha detto che Sta facendo una cosa Con dei documenti Non so Giusto E mi ha detto Perché mi hai chiamato E io tipo No Niente Giusto per Mi ammazza Cioè Se ci ammazza poi Ok Però a me non mi deve toccare Perché poi mi ha incazzo E mi spacco la testa Non c'hai capito Eh ma te Spostati Dai L'ultimo ballo di Fortnite No c'hai capito No c'hai capito So Ok siamo ufficialmente pazzi Ragazzi mio padre non è arrivato ancora È passata tipo un'ora E ha iniziato a piovere E non arriva ancora Altro che reaction epic ha finito male Mi uccide Scherzi Mi ammazza E non arriva ancora andiamo all'altra buongiorno è una macchina no le durato niente mi ha escapato da lì Mi è scappato da ridere Papà Cos'hai da dire per la tv Dove vai? Dove vai? Cos'hai da dire per la tv? Eh? Dai Eh? Ma come niente Cos'hai immaginato? Cos'hai immaginato? Se questo fosse la colpa E che sicuro Cioè di lui Ma papà ci hai creduto? Mi è arrivato un momento Mi fa di botte le passano le mie Comunque fatto sta che Mi è scappato da ridere Perché mio padre è entrato Che aveva un sorriso assurdo Poi ha visto la tv E ci è rimasto male Cosa aveva detto? Sarebbe entrato Avrebbe toccato la tv Per vedere se era veramente rotta Io lo ho saputo E comunque Scherzo più o meno riuscito Scusate Mi poteva durare molto di più Ma mi è scappato da ridere Perché i miei fratelli ridevano Mio padre era contento Perché è entrato col sorriso Poi ha visto la tv E quindi Non ce l'ho fatta Io sono uno che se inizia a ridere Non finisce più Papà Quanti mi piace? Quanti mi piace papà? 50.000 50.000 like Entro mezzanotte Prossimo prank E niente Detto questo Ci vediamo al prossimo video Bene Fumo gangio olandese Ehi Senza uscire dal mio quartiere Yeah Usa in bolchartessere Ehi Quattro secondi da quelle sirene Yeah Nel locale mondo ci da bere Comanda i tuoi amici se non ti sta bene Yeah Per mano va bene le buste nei booster Fra tre sugli scooter di Max Yeah Mi trova bene